Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Vi ricordo anche che potete inviarci le vostre segnalazioni durante la settimana al numero whatsapp che trovate qua in sovrimpressione, dove potete inviarci messaggi audio, messaggi di testo, foto, video, oppure inviarci una mail al contatto di redazione vallefoglia-rossinitv.it. Io direi di aprire subito questo notiziario, una prima parte sarà dedicata alle elezioni regionali e con questo primo servizio andiamo a vedere un po' qual è stato l'esito delle elezioni per quanto riguarda soprattutto la città di Vallefoglia. Nelle 14 sezioni scrutinate a Vallefoglia è la coalizione di centro-destra a prevalere con il 44,36% e 2.803 voti, mentre il centro-sinistra di Maurizio Manzalardi si ferma alle 38,11% con 2.408 voti. Un distacco importante superiore ai 6 punti percentuali. I 5 stelle di Zammario Mercorelli si fermano invece alle 13,66% con 863 voti, una percentuale però più alta rispetto al risultato regionale dove si è fermato poco sopra all'8%. Per quanto riguarda i singoli partiti, a Vallefoglia ha mantenuto il primato il PD con 1.838 voti e un 32,61%, dove le preferenze Vitri e Biancani hanno fatto la differenza. Per il centro-destra il partito con più preferenze è stata la Lega con 1.436 voti e il 25,47%. A ruota hanno fatto seguito Fratelli d'Italia con 840 voti ed il 14,90% e poi Forza Italia con 284 voti ed il 5,04%. In questo contesto a portare acqua all'emulino di Acquaroli sono stati Mirko Carloni, Carla Nicolini e Davide Fabrizioli. Un discorso a parte invece è quello che riguarda il referendum per ridurre il numero dei parlamentari. A Vallefoglia ha prevalso il sì per il 79,63% dei votanti, mentre il restante 20,37% ha votato per il no. Da sottolineare è la partecipazione degli elettori in questi due giorni di elezioni, visto che la fuenza alle voto nella città di Vallefoglia è stata pari al 59,07%. E ora la parola al sinaco di Vallefoglia, Palmirocchieli, che anche lui ha commentato l'esito delle elezioni che, nonostante la vittoria della coalizione di centro-destra, ha visto un buon risultato da parte del Partito Democratico con i suoi due candidati, Biancani e Vitri, che sono andati nel Consiglio regionale. Vallefoglia è andata strabene, nel senso che le PD, il primo partito, abbiamo eletto i due sui quali avevamo puntato, c'è Biancani e Vitri, in questa ballata. Per cui che riguarda la politica più generale mi pare che la faccia di Salvini non era proprio sorridente, perché puntavano da vincere sette regioni su sette, del resto l'aria era più favorevole al centro-destra che al centro-sinistra. Hanno mantenuto le tre che avevano, più hanno vinto le Marche, ma se pensiamo che pensavano di vincere la Toscana, la Campania, la Puglia, 20 milioni di persone, invece le ha vinte tutte e tre al centro-sinistra. Quindi pari e patta, palla al centro. Certo mi dispiace per le Marche, ma questa è la democrazia, la logica dell'alternanza, bisogna capire dove ci sono stati degli errori, chi fa la regia politica, perché io mi occupo di Vallefoglia e poi ci si riprepara per la prossima partita, come avviene oramai nella vita politica e democratica, in un paese dell'alternanza. Sul piano politico più generale mi pare che questo Governo stia facendo un ottimo lavoro, arriveranno tanti soldi, spero tanti anche a Vallefoglia, al di là di chi governa, dall'Europa, dal Governo nazionale e anche nelle Marche, quindi incalzeremo il nuovo Presidente, gli ho già mandato un messaggio di buon lavoro e di congratulazioni, perché quando uno vince si fa così, e poi incalzeremo. Penso che se la legislatura va alla fine, i due poli, centro-sinistra e centro-destra, dovranno decidere dove stare i 5 Stelle, ma se stanno con noi a Roma penso che dovrebbero stare con noi, la partita per il Governo del Paese penso che sia tutta da giocare, nel senso che le regioni sostanzialmente, è vero che sono 15 regioni centro-destra e 5 al centro-sinistra, ma in quelle 5 regioni ci sono metà degli italiani, metà degli italiani sono governati dal centro-sinistra in queste 5 regioni, cioè Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Puglia, e il resto mi pare che si sta riaprendo una bella discussione dentro il centro-destra per la leadership, tra Salvini che cominciano già ad aprire una discussione dentro la Lega, fra Meloni e Fratelli d'Italia, dentro Forza Italia, il centro-sinistra bisogna ritrovare un po' la bussola, ecco, io penso che ritrovando insieme la bussola si possa fare gli interessi dell'Italia e degli italiani intanto in questa legislatura che dovrebbe andare alla fine e poi si rigioca la partita e vinca il migliore. Per quel che riguarda Vallefoglia noi stiamo lavorando a velocità supersonica, Vallefoglia è tutto un cantiere pubblico e privato e la gente come si è visto ha approssato. E ora la parola ai vincitori perché nella città di Vallefoglia a portare voti a Francesco Accoroli sono stati Carla Nicolini e Davide Fabrizioli per quanto riguarda il gruppo Fratelli d'Italia e la lista Forza Italia. Entrambi hanno espresso in questo servizio la loro felicità per la vittoria della centrodestra nelle Marche. C'è una grande soddisfazione per questa vittoria a livello regionale, abbiamo strappato alla sinistra dopo tanto tempo questa regione trascurata ultimamente, ci sono state parecchie carenze, questo forse la gente ce l'ha riconosciuto, quindi la crescita anche di un partito a livello regionale di Fratelli d'Italia di cui faccio parte. Diciamo che con questo cambiamento speriamo veramente di poter realizzare le prospettive future di questa meravigliosa regione perché ha delle grandi potenzialità. A livello personale per la lista appunto che ha detto le Fratelli d'Italia è la prima qua a Vallefoglia per il numero di preferenze. Orgogliosissima di questo, delle preferenze che ho avuto e anche del risultato finale, anche perché io ho sempre detto che ho messo in primo piano la famiglia, avevo degli impegni familiari cui non potevo mancare in questo periodo, ho dato tutto, ho investito quasi niente in confronto agli altri candidati perché il costo economico è stato pari a zero quasi, quindi i voti che ho, secondo me che le preferenze che ho avuto sono state col cuore, per la persona che mi conoscono, per come mi apprezzano, per quello che sto portando avanti anche in consiglio comunale dove rappresento tutto il centro-destra, quindi è un orgoglio anche aver strappato la regione nel comune di Vallefoglia perché ci dà modo di farci conoscere un po' di più, di avere più visibilità perché non c'è mai stata tanta visibilità per il centro-destra qua a Vallefoglia. Questo renderà probabilmente i tre gruppi della coalizione, i tre principali gruppi della coalizione ancora più collaborativi per costruire anche nella città di Vallefoglia un futuro migliore, diciamo. Un'ultimissima cosa, quella sulla affluenza, qua Vallefoglia quasi il 60%, poteva andare meglio, poteva anche andare pezzo un suo commento. No, diciamo che non lamentiamoci, visto il tempo che ha giocato bene e male, diciamo perché ancora la gente negli ultimi giorni d'estate si va al mare, però si è riscontrata un'affluenza maggiore nelle ore serali quando il tempo è cambiato in effetti. E tanta anche il lunedì, c'è stato parecchio movimento il lunedì in parecchi seggi, specialmente in quello di Montecchio che è quello più grande. Quindi io direi solo di ringraziare tutti gli elettori che comunque sia in Consiglio Comunale continuerò a rappresentare tutto il centro-destra. E per Fratelli d'Italia sono talmente orgogliosa di aver portato un ottimo risultato qua a Vallefoglia. Grazie di tutto. Sì, come detto, ieri c'è stato lo spoglio e devo dire che è stato uno spoglio abbastanza chiaro e limpido perché innanzitutto mi preme ringraziare tutti coloro che sono andati al seggio, anche i presidenti che ci hanno lavorato, i segretari, perché con questo periodo di Covid non era semplice, invece devo dire che tutto è andato abbastanza bene. Lo spoglio di ieri ha portato una nuova ventata, una ventata che ha portato un presidente, Francesco Acquaroli, che conosco personalmente, ad essere nuova governatore della Regione Marche e visto che lo conosco ormai da diversi mesi posso dire che sono convinto che farà molto bene e porterà nella nostra provincia anche quelle iniziative che forse ultimamente erano state un po' trascurate e ci porterà anche a livello sanitario quello che forse c'era stato tolto. A livello personale, Davide, un buon riscontro per quanto riguarda i tuoi direttori Sì, devo dire soprattutto anche nel Comune di Vallefoglia ringrazio particolarmente chi è che mi ha appoggiato ringrazio tutti gli elettori che mi hanno dato questa possibilità anche nel mio comune sono stato ampiamente votato con quasi il 40% delle preferenze e questo mi riempie di orgoglio perché significa che stiamo facendo una buona amministrazione. Come dicevo nel Comune di Vallefoglia ho avuto un ottimo riscontro pensavo di poterlo avere ma non di questo livello quindi ringrazio particolarmente coloro che mi hanno votato. Un'ultimissima cosa, l'hai già sottolineato tu in precedenza la buona affluenza a queste elezioni. Sì, l'affluenza devo dire che nonostante il periodo Covid è andata in linea anzi al di sopra forse delle aspettative. Questo è sinonimo che i cittadini hanno capito che è importante andare a votare e recarsi ai seggi in sicurezza così come è stato e quindi un grande complimento anche a loro. Ad ora parliamo di un'azienda, di un'eccellenza del nostro territorio ovvero la dita Tomassi Galanti che con i fratelli Giacomo e Giovanni si occupa della creazione di cucine d'elite. Noi abbiamo parlato con Giacomo ed insieme a lui abbiamo fatto una panoramica per quanto riguarda il momento del settore delle cucine, del settore delle mobile e soprattutto di quello che riguarda l'export dopo l'emergenza Covid-19. Allora, la situazione non è delle migliori. Noi come azienda siamo molto positivi perché abbiamo lavorato abbastanza sia durante il Covid che nella fase post-Covid. Però il nostro, essendo un prodotto progettato che parte comunque da una piantina, da un progetto che sviluppa un designer, un architetto, ha fatto sì che abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato molto i progetti però non nascondiamo che non sono arrivate le conferme. Cioè nel senso abbiamo lavorato tanto al nuovo, il vecchio, quello che era una fase pre-Covid, si è fermato, non tutto è andato in porto. Adesso, in questa fase di settembre, ottobre, novembre, speriamo e siamo certi che arriveranno le conferme di tutto il lavoro svolto da aprile fino ad agosto. Lavorate anche molto con l'estero. La situazione dell'export com'è? Sì, infatti mi riferisco proprio all'estero perché la nostra azienda lavora l'80-90% all'estero. Quindi, tra che noi ci siamo bloccati prima, dei mercati dove esportiamo. Loro hanno riniziato a metà giugno, fine giugno e poi erano riniziato magari anche in condizioni peggiori delle nostre. Non si è potuto far molto appunto in termini di conferme, di definire il progetto. Quindi siamo ottimisti per questo, diciamo, fine estate, inizio autunno che rientrino i lavori svolti nei mesi scorsi. Una nota che vorrei fare è che comunque anche gli imprenditori che sono nelle nostre stesse condizioni devono essere ottimisti e positivi, più che ottimisti, positivi. Perché comunque se l'Italia riparte, deve ripartire comunque dal tessuto artigianale, dal nostro terziario, che è quello lì che crea il motore di tutto. Quindi forza, coraggio e cerchiamo insomma di aiutarci, di spalleggiarci, perché se mogliamo noi non so l'economia italiana come può insomma risorgere. Quindi con positività cerchiamo di far risorgere l'economia con il lavoro e con insomma l'aiuto tra noi imprenditori. Un'ultimissima cosa dopo questo bel messaggio. Vi occupate soprattutto di cucina e di lusso, quindi parliamo di un range medio-alto per non dire semplicemente alto. Sì, sì. Noi chiamiamolo lusso, ma a noi ci piace usare la parola bellezza. A noi ci piace produrre prodotti belli, belli da vivere, belli da vedere, belli da toccare. Quindi supererei un po' il discorso del lusso che a volte può sembrare in certe tipologie di clienti una cosa un po' cafona. No, ci piace il bello. Quindi ci piace produrre prodotti dall'alta tecnologia, ma prodotti da mani sartoriali dei nostri appunto artigiani e prodotti soprattutto belli. È per quello che lavoriamo con designer, architetti per fare comunque prodotti unici, anche se si parla di cucine, ma uniche dal grande impatto estetico ed emotivo per il cliente che poi se le mette in casa, perché vengono prodotte esclusivamente per loro. E adesso parliamo di un effatto accaduto nella scuola primaria Salvatore Quasimodo di Petriano. Nella serata di martedì è stato comunicato il primo caso di positività alle Covid-19 di un alunno all'interno della scuola. Il sindaco Fabrizioli ha subito tenuto a sottolineare che la situazione è stata presa in esame immediatamente e come da protocollo le insegnanti e gli alunni della classe sono stati messi in quarantena preventiva. Il Dipartimento Prevenzione Asur, la scuola e le comune continuano a monitorare la situazione ed è stata avanzata la procedura di tamponi per ritornare al normale svolgimento presto dell'attività didattica. E adesso lo spazio è dedicato alle vostre segnalazioni. Vi ricordo ancora una volta che potete ingarci immagini, video, messaggi di testo, messaggi audio al numero WhatsApp che trovate qui nel sovrimpressione oppure alla mail di redazione Vallefoglia, chiocciolaroscinitv.it Questa settimana ci siamo occupati di un fatto accaduto a Colbordolo. Una nostra telespettatrice ci ha scritto ha preferito rimanere anonima. Noi siamo andati con le nostre telecamere l'abbiamo anche sentita, sentirete la voce di questa telespettatrice che ha voluto farci presente di un fatto. Vediamo il servizio. Io segnalo questa situazione di degrado del paese di Colbordolo riguardante in primis dei giardinetti che sono veramente ridotti molto male nonostante tante persone che hanno detto la loro che sono andate a reclamare in comune e quant'altro ma praticamente non ascolta, nessuno ascolta. In secondo c'è l'isola ecologica che vedremo, qui la vedremo, è messa male, è disordinata, è sporca e poi anche il paese stesso è incolto, cioè nel senso che è in degrado. Non c'è quella situazione che fa sì che praticamente la gente quanto viene, il turista, perché ce ne sono molti che vengono soprattutto ciclisti da tante parti dell'urbinate e notano con dispiacere, insomma. Notiamo i nostri giardinetti, sono della guerra 15-18 perché ci sono solo due giochi per i bambini e tra cui questi giochi sono praticamente messi molto male, sono rotti e ovviamente il terreno è scosceso, è tutto brullo che bisogna stare attenti a camminarci perché ci sono anche radici di albero che se uno non sta attento fa cadere. Le siepi lasciamo le stare perché sono tutte così alla natura, nature diciamo così e questo è quanto. E molto, cioè, dispiace questa cosa perché col Bordolo è veramente un paese grazioso. Io ringrazio Rossini TV per avermi ascoltata e spero che la mia voce giunga a chi di dovere, ovviamente, per migliorare questa situazione di questo non borgo ma paese qui della provincia di Pesaro. Si avvicina il momento dell'inizio dei lavori per Piazza Rossini a Bottega. Abbiamo intervistato Andrea Mulazzani, amministratore unico della Mulazzani SRL, la ditta incaricata dalle comune di Vallefoglia per la realizzazione dell'opera. Prima di tutto, cioè, volevo premettere che siamo felici di fare questi lavori di riqualificazione della piazza perché io ho abitato a Bottega per 25 anni e quindi ritorniamo un po' alle nostre origini. Allora, i lavori inizieranno nel mese di ottobre, verso la metà di ottobre, e più o meno avranno una durata di un mese e mezzo, quindi è prevista la fine lavori entro la fine del mese di novembre. I lavori riguarderanno la riqualificazione di Piazza Rossini e saranno principalmente una ripavimentazione della piazza con una pietra, l'asfaltatura e poi riguarderanno la pubblica illuminazione, però questa è stata appaltata ad un'altra ditta che poi avrà anche la riqualificazione delle varie illuminazioni del paese di Bottega e del comune di Vallefoglia. I lavori sono stati appaltati per un importo di circa 70.000 euro e non vediamo l'ora di iniziarli e terminarli per vedere riqualificata una piazza che fa parte poi anche della nostra vita di azienda, perché noi abbiamo avuto anche la sede per tanti anni a Bottega di Vallefoglia. E continuiamo a parlare di lavori pubblici. Il comune di Vallefoglia ha comunicato che i lavori di asfaltatura delle strade comunali procedono come da programma. In particolare, in questi ultimi giorni si è tariffato il manto stradale ad alcune vie, tra cui via Cagolino dall'incrocio per Montefabri fino a Pontevecchio, via Canarecchia in località Capponello, via Dei Montali a Sant'Angelo in Elizzala, via della Libertà e le banchine di fronte al nuovo centro commerciale in località Bottega e via Del Piano nella zona industriale di Talacchio. I lavori, eseguiti dalla ditta Consorzio Concos di Sant'Arcangelo di Romagna, prevedono il rifacimento delle tappetino di usura, la sostituzione dei vecchi chiusini in cemento con chiusini in ghiesa sferoidale, la sistemazione della segnaletica verticale e delle fasce di arresto che contribuiranno a mettere in ulteriore sicurezza le strade di queste frazioni. E ora parliamo di un evento, perché questa settimana attraverso una conferenza stampa è stata presentata la quarta edizione della fiera di San Michele Arcangelo Agrifiera 2020. La fiera, dedicata all'agricoltura, ai prodotti tipici agroalimentari e alle attività economiche produttive, si terrà questo weekend nei giorni di sabato 26 e 27 settembre e il prossimo weekend nei giorni 3 e 4 ottobre. Vediamo il servizio. Come si vede io sto con la mascherina e quindi la fiera si terrama nel rigoroso rispetto delle regole che sono il distanziamento sociale, l'igienizzazione e le mascherine. Perché se siamo bravi a non riportare nelle relazioni internazionali il virus possiamo recuperare e diventare tra i primi paesi europei del mondo come paese Italia. La fiera è una delle opportunità che vogliamo dare non solo agli agricoltori di questa vallata perché ci sono due o tre momenti di riflessione sull'economia e il futuro dell'economia del dopo Covid e sui temi del melograno che è una produzione importante che la ritroveremo anche nella diciamo nella fiera e nell'esposizione che faremo nell'ultimo weekend di novembre e dicembre quando parleremo di tartufo di olio extravergine d'oliva e di melograno quindi facciamo una riflessione anche sulla produzione del melograno nella fiera di talacchio e poi una riflessione su questi maledetti insetti che danneggiano enormemente l'agricoltura poi ci sono momenti di divertimento momenti di produzione e di riflessione dell'economia agricola e inoltre c'è una riflessione su una struttura di supporto all'agricoltura dell'intera vallata dell'intera provincia e perché no delle marche nell'ex cantina sociale di Morciola insieme all'università di Urbino insieme all'università di Ancona insieme alle associazioni di categoria insieme a Marche Multisiviste del Consorso di Bonifica per far diventare l'ex cantina di Morciola una struttura di ricerca scientifica di cosa produrre e quale agricoltura oggi in questa vallata nelle marche nel mondo e cercare di capire come dare più reddito ai giovani agricoltori che sono ritornati in agricoltura cioè cosa produrre e quanto produrre quale qualità di prodotti come l'agricoltura diventa un elemento di tutela della salute delle persone perché mangiare bene dice un vecchio detto popolare non vuol dire mangiare molto vuol dire mangiare cose pregiate di grande qualità come contenere l'inquinamento atmosferico perché uno degli obiettivi è anche quello in un'area in una vallata di 200.000 abitanti dove l'agricoltura mantiene un ruolo e poi diciamo l'andamento dell'economia di tutti gli altri settori per questo è un territorio fortemente industrializzato fortemente diversificato dall'agricoltura alla metallomeccanica alla lavorazione del mobile alla lavorazione del vetro alla refrigerazione e puntiamo anche attraverso queste riflessioni questi due weekend e questi quattro giorni abbiamo fatto quattro giorni anche perché pensiamo che il tempo non è detto che sta tutti e quattro giorni bello perché un conto era a giugno o a maggio quando l'avevano fatto in passato un conto è fine settembre prima di ottobre ma siccome siamo fortunati probabilmente pensiamo di avere il tempo buono in questi quattro giorni quindi un evento importante come detto all'inizio nel rigoroso rispetto delle regole anti-covid perché noi vogliamo superare questa pandemia drammatica che ha messo in difficoltà l'economia e ha prodotto anche diversi casi mortali purtroppo non solo da noi ma in tutto il mondo quindi quattro giorni di divertimento anche perché ci sono tre compagnie dialettali riproducendo le radici un po' delle vallate nostre di contadini che la sera raccontavano le storie quindi ci saranno dei momenti per i bambini quindi saranno quattro giorni interessanti attorno al diciamo alla struttura del comune che è la mensa è un punto di ristoro importante che sarà aperto e che diventerà interessante lì ci sono parcheggi infiniti per quelli che vengono da fuori ci sono molte piante che anche se dovesse ancora far caldo uno può stare nell'ombra o può stare a respirare un po' d'aria buona perché in quei periodi le fabbriche saranno chiuse e poi non ci sono fabbriche inquinanti in quest'area quindi quattro giorni importanti invitiamo i cittadini le comunità a partecipare l'inaugurazione sarà sabato prossimo alle 17 il taglio del nastro ho invitato il nuovo presidente della giunta regionale i consiglieri regionali eletti quindi diciamo coinvolgiamo tutte le istituzioni a prescindere da chi sono di volta in volta governate e concludiamo con lo sport parlando di volley femminile perché la megabox Vallefoglia ha trionfato la sua prima gara di campionato in Serie 2 la squadra allenata da coach Fabio Bonafede si è imposta per 3-1 sulle campo di Soverato dopo aver perso il primo set ora nel prossimo turno di campionato la megabox esordirà in casa le palladionisi contro la squadra veneta Ipag Montecchio termina qua questo secondo appuntamento con il Vallefoglia magazine io vi ricordo che potrete riseguire tutte le repliche qua su Rossini TV vi rimando al prossimo appuntamento in programma venerdì prossimo sempre alle ore 19 qua sui nostri canali su Rossini TV canale 633 delle Digitale Terrestre grazie mille da Andrea Sabatini per essere stati con noi una buona serata a tutti grazie a tutti